ciao a tutti io sono svitlana marongio e questo è il nostro canale di youtube canale di victoria e svitlana marongio oggi vi presento questo scaldacollo fatto a ferri ho fatto chiuso quindi cucito ho fatto scaldacollo a due giri chi vuole fare la sciarpa prego potete anche farlo o con un punto molto molto particolare che è bellissimo al mio parere visto che è arrivato freddo cosa c'è di meglio di una bella sciarpa avvolgente io l'ho fatto scaldacollo e quindi io sicuramente userò a due giri che lo possiamo mettere in questo modo possiamo anche coprire un po il collo da dietro quando c'è il vento ok per fare questo scaldacollo ho usato bellissimo filato meraviglioso che filato si chiama atelier e di lana gatto e come composizione abbiamo qui 32 per cento di alpaca 18 per cento di cotone 18 di modal 18 di nylon e 14 per cento di lana vergine con tutto questo mix potete immaginare la morbidezza di questo filato per quanto riguarda ferri ho usato un scaldacollo in 50 grammi abbiamo 110 metri per fare questo scaldacollo che misura 20 centimetri e in altezza e un metro 25 aperto prima di essere cucito ho fatto un metro 25 ci sono volute due di questi gomitoli quindi con 100 grammi sono riuscita a fare questo bellissimo scaldacollo per quanto riguarda ferri ho usato ferri circolari non vi spaventate siccome lo sapete perfettamente che io lavoro ferri circolari ma lavoro andato e dritto e rovescio quindi chi vuole ferri dritti benvenuti ok poi altra cosa numero di ferri numero 7 poi certamente per cucire ho usato ago ago con la cruna flessibile e certamente forbici per tagliare eccesso del filo ok adesso io lo tolgo e lo guardiamo da vicino ma prima di togliere potevo dire chi vuole fare sciarpa prego la sciarpa viene benissimo che vuole fare uno scaldacollo da uomo anche perché no perché appunto lo permette chi vuole fare uno scaldacollo a un giro quindi sarà sufficiente un gomitolo e la metà della misura che ho fatto io adesso lo osserviamo da vicino guardate particolarità di questo punto bello sia in orizzontale sia in verticale quindi come uno vuole lo userà se uno vuole che la riga va diversamente quindi avvia numero di mali in lungo e poi lavora solo altezza da dritto si presenta così e sul rovescio è questo il suo rovescio anche se viene fatto una sciarpa che non sarà cucita e la sciarpa certamente si gira se si gira e il punto non è proprio brutto brutto anzi è carino che sembrano le stelline al mio parere ok questa è la cucitura questa è la cucitura che si presenta sul dritto e niente cosa cosa posso aggiungere filato è meraviglioso quindi guardate questa sfumatura di filati di tonalità proprio di natura per me è meraviglioso questo vi faccio vedere un altro colore ci sono anche altri quindi se vi piace questo progetto passiamo subito al lavoro per iniziare questo lavoro conferì numero 7 ho avviato 36 mali allora numero di mali per questo punto che devo usare multiplo a 4 quindi più due mali io ho messo per all'inizio e alla fine per rimanere la la mia sciarpa più rigida quindi le lavoro lì lavorerò sempre a legaccio e 2 mali di vivagno quindi questi due giusto per simmetria del punto e ho fatto un giro di preparazione che tutti i mali a dritto questo non viene contato come per il punto siccome è previsto a fare uno scaldacollo che poi viene cucito io ho fatto questo anche per far vedere a voi meglio il punto ok partiamo col nostro lavoro prima maglia e maglia di vivagno la prendo senza lavorare questa male che vi ho detto per simmetria del punto io lavorerò sempre a dritto ok e adesso partiamo col nostro punto prendiamo prima copia di mali prima e seconda entriamo con ferro uno spazio dopo la seconda maglia portiamo in avanti filo che gettiamo il filo e adesso queste due maglie lavoriamo insieme a dritto prendendo la parte da dietro della maglia che è fatto successive due mali e lavoriamo insieme a dritto prendendo sempre da dietro della maglia che abbiamo fatto il primo rapport del nostro punto e da allora lavoro si ripete quindi 12 entro tra dopo la seconda maglia in questo verso aggancio il filo lo porto in avanti getto il filo sul ferro e queste due maglie che le abbiamo a volte adesso prendiamoli tutti e due e lavoriamo a dritto che è successiva coppia di due maglie li lavoriamo insieme a dritto in questo modo abbiamo fatto il secondo rapport del nostro punto e andiamo avanti sempre il ferro tra seconda e terza maglia portiamo in avanti filo getto e queste due maglie le lavoro a dritto successive due li lavoro sempre a dritto prendendo la dietro della maglia che e così via lavoro noi dobbiamo ripetere e così via lavoro noi dobbiamo ripetere vi faccio vedere ancora lentamente due mali entro aggancio il filo porto in avanti getto il filo e questi due maglie le lavoriamo insieme a dritto ok successive due maglie adesso allargo un pochino poi viene più semplice le lavoro insieme a dritto in questo modo lo andiamo a terminare questo giro sono arrivata alla fine del giro mi sono rimaste sei mali sul ferro quindi quattro per ultimo rapport e altre due una per la simmetria è una maglia di vivagno e ve lo faccio rivedere ancora quindi tra seconda e terza maglia entriamo agganciamo il filo lo portiamo in avanti getto e questi due mali le lavoriamo insieme a dritto successive due maglie e lavoriamo insieme a dritto è fatto questa maglia maglia per la simmetria che vi ho detto che lavorerò sempre a dritto fatta e maglia di vivagno la lavoro a rovescio ok noi abbiamo terminato il primo giro che tutti i successivi mali dispari quindi primo terzo quinto e così via saranno uguale come questo giro che abbiamo fatto invece ma numero pari di giri quindi secondo quarto e così via saranno uguale a questo che vi sto per far vedere ma partiamo con secondo giro la maglia di vivagno prendiamo senza lavorare la maglia per simmetria lavoriamo sempre a dritto e adesso passiamo al nostro punto primi tre mali e le lavoriamo a dritto prendendo parte il davanti del nostro della nostra maglia una due e tre la quarta maglia non le facciamo in questo modo mettiamo filo davanti e passiamo senza lavorare lasciando il filo davanti e abbiamo fatto il nostro primo rapporto adesso lavoro si ripete prima seconda e terza maglia lavorate a dritto la quarta quarta maglia portiamo filo in avanti prendiamo e la spostiamo senza lavorare ricordate che filo va davanti al lavoro e ripetiamo una maglia dritto seconda e terza e la quarta maglia la spostiamo senza lavorare e di nuovo una due e tre e la quarta spostiamo senza lavorare in questo modo noi terminiamo il nostro secondo giro sono arrivata alla fine del secondo giro vi faccio rivedere ancora un rapport di questo secondo giro quindi tre male a dritto una due tre quarta maglia la spostiamo senza lavorare adesso noi abbiamo due mali e quindi questa male per la simetria la lavoriamo sempre a dritto e ultima male di vivagno è sempre a rovescio ok e da allora noi dobbiamo ripetere primo e secondo giro adesso vi faccio vedere velocemente di nuovo il primo giro quindi maglia di vivagno viene tolta maglia per la simetria la lavoriamo a dritto tra seconda e terza maglia entriamo agganciamo il filo lanciamo bene portiamo in avanti gettiamo il filo due mali insieme a dritto successive due maglie insieme a dritto e così via portiamo il filo gettiamo e due mali insieme a dritto successive due mali insieme a dritto ricordate che lavoriamo parte dal dietro della maglia di nuovo tra seconda e terza male entriamo portiamo il filo gettiamo e due mali insieme che fatto due successive mali insieme a dritto punto è di grande effetto non è non è così difficile ancora non si vede adesso andiamo avanti con lavoro ricordate che noi dobbiamo ripetere primo e secondo giro primo e secondo giro ok io questa maglia per la simmetria l'ho fatto di proposito perché mi piace che il bordo rimane più più diciamo dritto e questi nodini che si formano proprio evidenziano inizio del punto quindi io vado avanti con lavoro volo lavorate quando volete lungo io credo che lo faccio con a due giri quindi vediamo le misure più avanti sono andata avanti con lavoro e ho fatto la lunghezza che mi serviva quindi ho misurato il mio futuro scaldacollo e misura un metro e venti guardate che meraviglia di punto che esce fuori e per chiudere il lavoro se vi ricordate noi abbiamo iniziato a un giro dei mali solo a dritto e adesso lo facciamo pure un maglio a dritto un giro a dritto e poi chiudiamo il nostro lavoro quindi tutte le mali idee che cielo sul ferro io lavoro a dritto ok quindi niente di particolare tutti i mali a dritto lo facciamo per fare la nostra cucitura ok quindi facciamo questo giro a dritto prendo tutte le mali sul davanti del lavoro e li passo a dritto certo che che vi siete accorti che io prima maglia sempre male di vivagno ho tolto senza lavorare e quindi in conseguenza anche ultima maglia di vivagno io la faccio a rovescio come faccio sempre tanti di voi mi chiedono cosa sono mali di vivagno e che cosa servono se guardate le mie mali di vivagno formano proprio una trecina che non serve più a rifinire il nostro scaldacollo che viene molto molto bello ok terminiamo questo giro insieme giro molto semplice quindi per questo io vado abbastanza veloce che e vi faccio vedere come chiudo il mio lavoro siamo arrivati quasi alla fine come sempre manca filo lo allunghiamo un pochino ecco qua sono arrivata alla fine ultima maglia male di vivagno e a rovescio adesso giro il mio lavoro e comincio a chiudere le mali e qualcuno di voi mi ha chiesto nei commenti perché io la chiusura faccio il lavoro a rovescio guardate siccome qui si presenta il giro a rovescio per farlo per avere proprio diciamo la chiusura uguale a questa io per questo lavoro a rovescio se volete potete fare anche a dritto non cambia io ho preferito a fare come si presentano le mali quindi chiudo in questo modo prima maglia tolgo senza lavorare la seconda maglia la lavoro a rovescio e questa tolta la facciamo a cavalare a questa appena lavorata è fatto e così via noi chiudiamo il nostro lavoro maglia rovescio e questa la facciamo a cavalare vi volevo ricordare non stringete tanto il vostro lavoro quindi né stretto nel largo deve essere la chiusura giusta maglia rovescio e la cavaliamo anche se vi viene un pochino più largo non fa niente in quanto noi dobbiamo cucire il nostro scaldacollo e quindi poi lo livelliamo con la cucitura che quindi faccio vedere ancora maglia a rovescio e questa la facciamo a cavalare questa chiusura avevo fatto vedere tante volte si è lavorato a dritto che a rovescio quindi più credo che questa chiusura delle mali e lo conoscete già quindi noi terminiamo la nostra chiusura e noi facciamo poi la cucitura e vi faccio vedere ho chiuso tutte le mali e quando ci rimane ultima maglia noi la allarghiamo un pochino in questo modo e facciamo attraversare il nostro gomitolo attraverso questa asolina quindi no è così in questo modo sì e la stringiamo la stringiamo bene e con questo abbiamo chiuso il nostro lavoro dopodiché tagliamo il filo giusto necessario per cucire che adesso facciamo la cucitura ma prima di fare la cucitura volevo dire delle misure quindi io vi ho detto prima che la lunghezza misura un metro e 20 invece adesso io ho rimisurato aperto misura un metro e 25 invece la larghezza la larghezza della nostra del nostro scaldacollo adesso la rimisuriamo risulta 19 e mezza quasi 20 centimetri ok e per cucire noi facciamo in questo modo uniamo se voi se voi vedete che adesso un pochino risulta un pochino più svasato non vi preoccupate che adesso con la cucitura lo livelliamo tutto quindi io avvicino due parti dritto sul dritto in questo modo dritto con inizio alla fine della mia del mio scaldacollo prendo ago da lana adatto al mio filato che infilo dentro e andiamo a cucire adesso il nostro scaldacollo io questo tipo di cucitura avevo fatto vedere tantissime volte e adesso ve lo faccio rivedere quindi vedete filo esce da qui io entro nella contraparte e stringo prima avvicino tutti e due parti e adesso andiamo a cucire a zig zag questo vedete questa la chiusura ci sarà va dentro quindi noi prendiamo la prima maglia in questo modo che e cerchiamo la prima maglia da contraparte è fatto e così via noi andiamo a salire a cucire la nostra sciarpa il nostro scaldacollo vedete prendo con ago vado proprio sotto questa maglia di cui di chiusura che da una parte è la stessa cosa faccio vedete in questo modo da contraparte stringiamo un pochino e così via saliamo quindi prendiamo da una parte e cerchiamo la sua contraparte dall'altra parte che credo e vedete facendo questo lavoro questo primo e ultimo giro che abbiamo fatto giro a dritto va tutto dentro la cucitura rimane tutta dentro vi faccio vedere ancora una volta che prendiamo una maglia da questa parte e cerchiamo la sua contraparte che e saliamo a zig zag una maglia da dall'inizio e una alla fine che andiamo cucire fino alla fine la nostra sciarpa poi come vi ho detto possiamo livellare un pochino stringendo per arrivare ad altezza giusta della nostra sciarpa e con questo con questo con questa cucitura le cerchiamo di livellare l'embe della nostra sciarpa io continuo a cucire la sciarpa e poi ci rivediamo al risultato finale ho terminato di unire due parti così si presenta la cucitura vi volevo dire quando state cucendo questo scaldacolo cercate di riavvicinare questi questi righe ok un'altra cosa che vi ho detto prima che con la cucitura noi possiamo livellare la nostra la nostra sciarpa il nostro scaldacolo quando avvicinare finite cucire voi leggermente col filo potete tirare le ho detto leggermente in quanto non deve neanche stringere quindi con la cucitura arriviamo alla larghezza uguale vedete che qui sembra un pochino più largo di qui e quindi noi livelliamo tirando proprio la nostra cucitura piano piano quando siamo arrivati diciamo alla larghezza giusta della sciarpa noi blocchiamo il filo e nascondiamo nella cucitura interna così si presenta dal rovescio un'altra cosa che volevo aggiungere che io questo punto faccio prima volta sono veramente soddisfatta in quanto con questo bellissimo filato rende molto bene il risultato finale mi piace spero che piaccia anche a voi e noi ci vediamo prestissimo vi saluto tutti alla prossima ciao ciao